Omini e madonne, chiamar vogliono il bello e coltivarlo animo con gallezza e serenitate, siano i benvenuti, quest'oggi Romanzio Salta a festeggiare Primavera, è la 38esima rilocazione storica, entrino le chiarine, i tamburi e gli spagnolatori del gruppo storico di Agnanico. I musici e gli spagnolatori del gruppo storico di Agnanico. Grazie a tutti. I musici e gli spagnolatori del gruppo storico di Agnanico. I musici e gli spagnolatori del gruppo storico di Agnanico. I musici e gli spagnoli del gruppo storico di Agnanico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I musici e gli spancheratori del gruppo fiorianico. Dopo vi vedremo nel numero principale qua in Piazza dell'Omaggio. Il rione centro. I colori gianne nero del rione centro. I consoli degli anni passati. I uomini e le madonne dell'orione centro che quest'anno propone i personaggi della trentottesima rievocazione storica. Il rione centro. Il rione centro. L'orione Carmine. I colori il rosso e il blu del rione Carmine. I giovani e le madonne dell'orione Carmine. I giovani, i messeri, le madonne dello stupendo rione Carmine. Il rione San Rocco. Il rione San Rocco. In Piazza dell'Omaggio. In Piazza dell'Omaggio qui ad Oglianico. In questo giorno di calendimaggio. Ed eccolo. Il rione consolata. I colori giallo e il viola del rione consolata. I consoli degli anni passati. I tantissimi giovani del rione consolata. I madonne, le madonne messeri. Il numerosissimo rione consolata che si aspetta nella piazza opposta a questa. Il rione consolata. Il rione consolata. Il rione consolata. Sono eletti campari. Messer Rolando Franco. E messer Casagrande Antonio. Messer Remonia Maurizio. E messer Ferrero Riccardo. Membri dei musici e degli spagnolatori del Borgo. Messer Vessella Francesco e Donna Lisa. Messer Francesco Vessella e Donna Lisa. Il Castellano di Rivarolo. Per la trentattesima rievocazione storica. In visita ad Aglianico in questo giorno di calendimaggio. Viva il Castellano di Rivarolo. Messer Restivo Domenico. Messer Rosbog Luigi. Messer Marangoni Fabrizio. Messer Rolando Domenico. e Messer Rosboglio. Messer Navarini Maurizio e Donna Monica delle Case del Centro. Viva il Consolo del Borgo di Aglianico. Viva! Viva! Cinque anni. Erano in quattro all'inizio. Un'idea di Eugenio ha fatto nascere questo gruppo che con gli anni è cresciuto numericamente. La cena d'auspicio, la taverna, le bavette, sono solo momenti della loro goglierdia. Loro sono l'abadia dei compagni. Loro sono l'abadia dei compagni. Grazie a tutti i 25 anni! 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 E a tutto il popolo qui intervenuto! Grazie a tutti i 25 anni! Grazie a tutti i 25 anni! Grazie a tutti i 25 anni! Facoltà secondo gli statuti concessi alla comunità e agli uomini del bordo, con l'approvazione dell'illustre Castellano, nostro in Rivarolo sedente, faccio espressamente delegato al nostro signore. Signor Conte di Savoia, che Dio ci conservi a lungo, il quale è benevolmente propenso che il nostro popolo gioisca. Noi, a nome degli uomini della comunità di Orianico, procediamo alla posa del maggio e che l'annata sia prosperosa e abbondante. Dichiaro Indi, aperte le feste delle Indi di maggio! Viva Savoia e Populus! Viva! 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 Grazie a tutti.